Hello, io sono Velia, io Federica, io Felipe, io sono Luca, no, tu non c'entri Luca al centro Hai nominato tutto, ok? Non vorrò partecipare a mettere nessuno, ok No, oggi siamo qui riuniti perché faremo la guest song challenge Quindi Luca, ritrovate le camera, farà partire delle canzoni anni 90 oppure i primi 2000 Roba nostra insomma, roba nostra, l'età, 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 l'età Di che anno siete voi? 94 93, dai ci stiamo, ci stiamo, pensavo peggio Ma come? Dobbiamo tutti inventare un buzz per prenotarci quando parte la canzone Ok Io faccio meh Io faccio sticcate, sticcate Tu? Mosca! Ok Enrico va, si rompendo proprio Vado eh Vai Meh? Noo Rich girl, di chi? Di queste fani Oh yeah Face Meh, riccate E' prima il meh Uuuuuh Deci a più Deci a più Deci a più Deci a più Ma c'è stato un suono, come cazzo hai fatto a indovinarla? Dai, è pionze È pionze Ok Musica 3 ore di sticcate Non c'è dei, 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 dei Destiny's Nooo Delle Pussycat Dolls E' più difficile di quanto pensassi, non va bene sta cosa Sì Britney Spears Toxic Io ho presentato il video Cioè è proprio Bello, è bellissimo Striccate 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 Wake up Di Hillary Duff Striccate Eh, che cazzo Eh, ma cosa sai, cioè Fatti assumere da Google Comprichete Avril Lavigne Posso dire una cosa? Lei ha la playlist sua su Spotify Dove sono tutte queste canzoni Che sento ogni giorno No, non è vero Quindi sei all'inizio perfettamente come sono Non è vero Sono brava Sono brava Sono brava Non è vero Le ricordo tutte le canzoni vecchie Te due, due, uno No, uno col cavolo No, 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 lei non è Ti sei due, hai indovinato Le Puzzica Dolls e... Giusto Mi ha detto che te due Due, due, anche te due Sì, all'inizio È vero Guardiamo Secondo me è uno, però se ti sei due Riasciamo gli due Senza parole Ma, ma, ma La sapevo di questo No, no Ti lascio Tiktok di Kesha La sapevo Tonight on the fire Till I see the sunlight Tiktok Oh, 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 oh Siamo i nuovi pentatonics È del 2009 No, no È di sette anni fa È tantissimo Ma a me sembra dell'estate scorsa Ma addirittura Sono due Guardate pure tre Ah, fricchete Aspetta, aspetta Black Eyed Peas Maschinata Non è maschinata Vabbè dai, Black Eyed Peas No, andrà un po' avanti Vai, infatti Ok, no, 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 no Eh, ok, no, 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 no Eh, mamma Eh, mamma Eh, mamma Eh, mamma Che bravi che siete Musica 50 cent Eh Eh Aspetta, no, 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 no Oddio Bisco Inferno È vero Questa è facilissima Dai Aiuto C'è la canza Qua anche se si è premata vince Perché se la sbagliate Veramente non vi parlo Vai Stricchete Maroon 5 È lo so, lo so Non mi rendito Ci vuol be loud Stricchete Bad Romance Le ti caga Purtroppo Perché ti eri premati prima No, scusa Io sto così Devi vedere il video Tipo Io faccio così E tu mentre io sto Qua Dici Stricchete Stricchete Stanno giocando il secondo posto Loro Eh sì Quindi non gioco più io Eh sì Vai Vendomi una Loro Io non la so Sono sicura Vai 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 Vado Dai Nobica Dai Allora La so io La so io No 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 Non so se è giusto Vai 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 Ora la dici Break me to life Dì E vale È vero Io do il mio Per il canale Ragazzi Allora Ho scommesso tutto Su quel libro Allora Vabbè Fatemi fare Quello che Cioè Però Sempre un tweet Che dici Tanto seguitemi su tweet Un tweet Un tweet Eh seguitelo su tweet Esatto E su Instagram E su YouTube Aiutati però Comunque Luca ha fatto parte Di questa challenge Delipa ha fatto appunto Isolo perché Le dicevo io Di altro No dai non è vero Io le canzoni Le sapevo Comunque cioè Non giudicatemi Che è successo Senti ma via Ciao ragazze So che non mi conoscete Però dovreste Fare un salto Sul mio canale E Boh Potremmo Vederci ogni tanto Vendici qualcosa che bere Io non pago per tutti Ve lo dico Vai Ma come Va bene Ok E' vero Quindi No non Non sto dicendo Che è vero Mi hanno dato il tuo peso L'hanno dato il tuo peso Grazie ragazzi Guarda in realtà Se vado in giù C'è un tweet mio Chi vi fa vedere Guarda aspetta È una pianta Che ti la limoni No non è che mi limono una pianta Mi capita sempre il pescino Di desiderare di essere asessuato Voglio iniziare a relazionarmi con le piante E poi ho scoperto Da avere un'attrazione Per le niente del giardino E i nari Andate a vedere il video Che abbiamo fatto sul canale di Felipe È stata una challenge Devo vendicarmi Non vale Io le canzoni le sapevo Problema di tempistiche Quindi mi raccomando Andate a vedere il video Iscrivetevi 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 E andate anche a seguirlo Su tutti i social E tutte le cose E non dimentico ovviamente Di scriver chi Di scriver chi Beh lo sappiamo l'italiano ragazzi Non dimenticate di iscrivervi Anche a questo di canale Assolutamente sì È giusto così È giusto Guardateci Cioè Au Voglio vedere Au Le fiori La prossima volta facciamo perdere lei Sì esatto In generale Sì esatto Non va bene questa storia No Federica No 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 Vabbè Ok Federica no Noi vi vediamo al prossimo video Un bacino Hello 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 Hello